Ciao amici di Foodspring, sono tornata e oggi, novità delle novità, nuovo gusto di Whey Protein che è cioccolato e anacardi, che vuol dire peanut butter. Noi in America abbiamo un dolce chiamato Reese's Peanut Butter Cups che è un misto tra salato, dolce, cioccolato, arachidi, che c'è quel retrogrusto salato che è super super godereccio, è buono quando vogliamo darci comunque sempre quel languorino o quel pagamento al nostro palato, però Whey Protein della Foodspring sono molto particolari perché le proteine di nostra Foodspring sono grass fed, allora vuol dire che i bovini vengono allevate a terra in Nuova Zelanda dove possono avere una più alta concentrazione di Omega 3 che è molto importante per ridurre l'infiammazione nel corpo e proteggere il cervello perché il cervello va in, è in gorda della DHA che è molto importante che fa uno delle tre della nostra Omega 3 e l'altra cosa è che questo miscuglio ha 76 grammi di proteine per 100 grammi però noi prenderemo 30 grammi di questo polvere quando lo utilizziamo e così avremo per ogni dose 22 grammi di proteine di altissime qualità da una parte e dall'altra parte soltanto 3 grammi di zucchero semplice, 30 grammi di questo polvere equivale a 111 calorie e così possiamo avere sempre un sostegno per i muscoli che è fondamentale per bilanciare anche l'assorbimento di zucchero nel nostro corpo per avere meno fame durante l'arco della giornata, tenere forti i nostri muscoli per il nostro allenamento ma anche con gusto, così oggi abbiamo con il nostro food spring, whey protein di nuovo gusto cioccolato e anacardi che è tipo Reese's Peanut Butter Cups, non so se l'avete mai ci avete presente AT che mangiava Reese's Pieces, ecco, dentiamo anche noi extraterrestri perché è veramente un prodotto che è godreccio, buono, gustoso, ci appaga palato ma ci dà tantissime proteine con pochi zuccheri, questa è la prima cosa e l'altra cosa è il fatto di trattarci con rispetto perché quando noi dobbiamo correre fuori casa e non sappiamo mai come mangiarci, partiamo con magari il frullato nella nostra borsa mettiamo le nostre proteine con magari un latte vegetale, portiamo con noi se vogliamo possiamo anche aggiungere un po' di pezzettini di cioccolato fondente però a 100% senza zuccheri aggiunti per trattare il nostro corpo, i nostri muscoli con rispetto e poi se volete provare la novità di Foodspring oggi, queste nuove whey protein cioccolato e non anacardi, scusami, arracchidi, quello che dovete fare è utilizzare il mio codice sconto su foodspring.it, gil, yt, codice sconto gil, yt, su foodspring.it, uno sconto pari a 15% e così potete trattarvi con rispetto ma anche con tanto tanto gusto Baci dalla GIL, vi aspetto alla prossima insieme Baci dalla GIL, vi aspetto alla prossima insieme